Le drammatiche vicende della pandemia hanno messo ancora più in evidenza che ambiente, lavoro e salute sono strettamente collegati. Che cosa c'era sfuggito prima? Esattamente questa capacità di tenerle insieme. Il grande problema di questo nostro tempo è stato quello di non aver colto la saggezza di un messaggio come quello cristiano che poneva i temi relazionati tra loro. Nella misura in cui invece abbiamo preso un aspetto e l'abbiamo solutizzato, nella Laudato Si Papa Francesco parla di forma di ignoranza quando ciò accade, ecco quando abbiamo solutizzato un aspetto scapito degli altri abbiamo dimenticato l'insieme e l'insieme significa la capacità di salvaguardare proprio le relazioni che sono il grande dono, ciò che ci costituisce, le relazioni con Dio, le relazioni con gli altri, con i fratelli, le relazioni con il creato ma anche le relazioni con noi stessi, la capacità quindi di avere questo sguardo complessivo sulle cose. Ecco le semplificazioni da cui proveniamo hanno creato un sacco di problemi, non ultimo quello dei cambiamenti climatici, non ultimo quello di un inquinamento che vediamo essere stato devastante soprattutto in alcuni territori.